Bassano, AAA, Comitato Cercasi. Per la terza volta in un anno e mezzo il quartiere San Vito andrà al voto. Le nuove elezioni sono state fissate per sabato 11 febbraio e domenica 12 febbraio. Alle urne i cittadini potranno scegliere tra 15 candidati. Sono Ezio Calmonte, Lamberto Del Grosso, Paolo Fabris, Elena Fontana, Gabriele Guarnieri, Alessandro Lancerin, Francesco Maccarone, Enrico Mocellin, Manuel Moranduzzo, Paolo Mosca, Massimo Pietro Bon, Stefania Pontarolo, Vittorio Schiavazzi, Alberto Soligo e Umberto Vivian. Si tratta di una rosa di nomi formata per metà dai consiglieri uscenti, tra cui l'ex presidente.